Oggi quello che andremo a fare sarà applicare quello che abbiamo visto la settimana scorsa sulla parte asincrona, sull'interazione con il database eccetera, finalmente diciamo al mondo web. Per cui ci allontaniamo da JavaScript come linguaggio di programmazione generale e lo proviamo a applicare all'ambito di questo corso che appunto è l'applicazione web partendo dal server. Perché? Perché è sicuramente più simile, più vicino a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa in quanto c'è ancora il database eccetera e perché è anche una parte più piccola che faremo in questo corso quindi riusciamo a concluderla, quantomeno gli aspetti base, in relativamente poco tempo. Quindi oggi quello che faremo è imparare in certo senso come si crea un server in JavaScript e poi il server farà delle query al database ed esporrà i dati del database in un determinato modo e questo è l'obiettivo di queste tre ore, incluso un esercizio su esattamente queste cose. Ma partiamo dalla parte di teoria su che cosa è diciamo un server e come creiamo un server in JavaScript. e qui entriamo nella slide vuota che ho appena creato. Che cos'è un server? È una domanda che faccio a voi se lo sapete, se no... Che cos'è un server? Ok, facciamo un passo indietro. Architettura web. Quali sono gli elementi macro di un'architettura web? Cosa c'è quando voi anche navigate sul web? Cosa usate? Quali sono... C'è un client e c'è un server. Ok, quindi... Ora con delle limitatissime doti artistiche. Immaginate che questo sia il client, perché c'è una C, e questo è un server che avrà una S. Ok? E poi ci sarà anche un database. Questo è il database. Che è collegato in qualche modo a server. Non ci interessa in questo momento sapere come. Potrebbe essere come SQLite un file, quindi sarà direttamente sullo stesso computer in cui gira il server. Potrebbe essere un server a sua volta, e quindi i due server, il server web e il server per il database, si parlano utilizzando qualche protocollo. Nel nostro caso il database è sul disco, per cui il server accederà direttamente al database, aprendo il file di SQLite come abbiamo fatto la settimana scorsa. Ok, questi due quadrati, il server e il client, che compiti hanno nell'ambito web? Il client invia delle richieste e il server risponde. Il client invia delle richieste e il server risponde. Questo è quello che succede in mezzo. Cosa succede invece all'interno di ogni singolo quadratino? Il client invia delle richieste. Che richieste? Su che argomento? Su... Quello è un modo di. Il client invia delle richieste, è corretto. Ma che richieste invia? Questo è il come l'invia. HTTP è il come l'invia, che è corretto, no? Richieste in... Questo client che cos'è tipicamente in un sito web, in un'applicazione web? Un? Un browser. Nel browser voi visualizzate delle pagine, no? Pagine HTML. Quindi, il client, se è un browser, è stato su un sito, manda delle richieste relative a quello che state visualizzando sulla pagina. E abbiamo detto correttamente che queste richieste sono... richieste che usano il protocollo HTTP. di cui voi siete espertissimi, giusto? Giusto? O avete un'idea di che cosa sia HTTP? Partiamo da quella. Avete un'idea di cosa sia HTTP? Sì o no? Sì, ok. Noi non andiamo a scrivere dentro HTTP, no? Però, che cos'è? Poi ci sono delle slides su HTTP, ma ci andremo velocemente, perché in teoria dovreste essere esperti. HTTP è un? Benissimo. È un protocollo di che tipo? Sì. Sì, è corretto. È un protocollo di tipo richiesta-risposta. Giusto? Perché si fa una richiesta, questa, e a un certo punto HTTP prevede che ci sia una risposta di qualche tipo. Si chiama di richiesta-risposta perché può esistere una risposta senza una sua richiesta corrispondente? No. Perché è intrinseco nel nome richiesta-risposta. Quindi ci deve essere qualcosa o qualcuno che fa una richiesta a cui è accoppiata una risposta. Ci possono essere molteplici risposte a quella richiesta? Allo stesso entità che fa quella richiesta, ovviamente. Quindi io faccio una richiesta al server, poi il server rispondemi con otto risposte? No, perché è una richiesta e una risposta. Quindi c'è sempre un match tra la richiesta che viene fatta e la sua risposta. Non può esistere una risposta senza una richiesta e quindi questo vuol dire che la comunicazione da chi parte? Sempre. Dal client? Dal client. Perché al server, per poter fare qualcosa, su HTTP gli serve una richiesta. Poi esistono protocolli che non sono di tipo richiesta-risposta e come va i protocolli che fanno subscribe, che sono invece protocolli stream e quindi non richiedono questo meccanismo. Ma HTTP è un protocollo richiesta-risposta. Ok. Quindi, il client fa una richiesta HTTP. Il server cosa fa quando riceve questa richiesta HTTP? la elabora in qualche modo, dipende che cosa c'è in questa richiesta. Se serve, accede al database. Se non serve, no. Prende un file da disco. se la richiesta è darmi una pagina con otto immagini, prenderà le immagini da disco, le impacchetterà nella risposta e li manderà indietro al client che a sua volta lo visualizzerà. Ok? Fin qui? Sì? Ok. Cosa succede se noi facciamo così? Questo è architettura web in 5 minuti. Che cosa succede se facciamo così? Se abbiamo un altro client, questo è il client 2. È lecito? Sì, non sono domande così difficili, però mi sembra che... È lecito e funziona esattamente nello stesso modo, no? Anche il client 2 fa le sue richieste HTTP e il server risponde. Questo cosa ci dice su chi deve avere... Se questa è un'applicazione web che ha dei dati, cosa ci dice su chi deve avere l'ultima copia sempre aggiornata dei dati? Chi deve averla di questi tre oggetti? L'ultima copia sempre aggiornata dei dati, quindi essere il contenitore di fiducia dei dati, i server. Quindi ogni volta che il client fa delle modifiche ai dati, il server deve essere informato, perché sennò gli altri client non vedono quelle modifiche. Quindi, in un'architettura web, l'architettura web è per definizione non solo distribuita, ma multi-client, perché un server può fornire molteplici client. E se i dati sono tutti dentro il client 1, il client 2 non li vedrà mai, finché non arrivano al server. Quindi la sorgente vera dei dati deve sempre essere il server. Quindi questo teniamo la mente da adesso, e poi lo riprenderemo con React a un certo punto, quando dovremo interagire tra il client e il server. Ricordandoci che i dati, quindi quando un client modifica delle cose, deve sempre comunicarli al server, altrimenti gli altri client non lo sanno. Non possono saperlo in questo protocollo, con questa architettura. E qui poi ovviamente ci possono essere n.000 client, questo è cn. Tanto che il server sta su e risponde, ci possono essere tutti i client che si vogliono. Ok. In un'architettura web tradizionale, o quantomeno per come voi potete immaginarlo, che cosa c'è nel corpo di questo pacchetto HTTP? O meglio, nella risposta del pacchetto HTTP. Cioè, rifacciamo. Io apro un browser, vado su www.polite.it, premo invio, premo naviga, e cosa succede? Ok, con calma. Cosa succede passo per passo? Io scrivo www.polite.it e premo invio. C'è tutto il meccanismo del DNS, eccetera, che risolve v.polite.it in 130, 192, qualcosa. Benissimo. Una volta che ho l'indirizzo IP, 130, 192, x, y, il browser fa una richiesta HTTP al server, corrispondente a 130, 192, eccetera, che sarà una richiesta di tipo get. Benissimo. Una richiesta di tipo get che vorrà dire, dammi, che cosa vorrà il browser in quel momento? Dammi? La pagina corrispondente a www.polite.it, slash, quindi la home page. Il server cosa fa? Se c'è la pagina, se va tutto bene, quindi se esiste un qualcosa che risponde alla root di www.polite.it e che può rispondere a una get, eccetera, cosa fa? Che cosa mettono a risposta? Mette sicuramente qualcosa in una risposta. Cosa mettono a risposta? Qual è l'oggetto che mettono a risposta? La pagina HTML corrispondente finisce nella risposta. Il server ha queste pagine HTML già predisposte, precompilate lì, tipo in un file, e le manda oppure le deve generare tipicamente? Secondo voi? Sono cose che fate tutti i momenti, andare su un sito web e scrivere un indirizzo. E questo è quello che capita nove volte su dieci probabilmente. Il server ha tutte le pagine, quindi il sito del poli, il server ha il sito del poli, ha tutte le pagine HTML lì come documenti tipo Word, pronti per essere mandati, oppure no? Le genera. Allora, cosa c'è in una pagina HTML? Pensiamo alla pagina del poli, che tutti avete esperienza con. Cosa c'è nella home page del poli? Tra le altre cose. C'è del testo, sicuramente, giusto? C'è del testo statico o del testo che cambia? O entrambi? Entrambi. Ci sono delle immagini? Sì. Che altro c'è? Cosa c'è? Il bottone. Ma è un bottone quello? Sì? Lì ci sono dei link con il contenuto. Direi basta. Ci sono video? No, direi. Giusto? Ok, ci sono queste cose. Testo statico, testo dinamico, immagini, e basta. Diciamo, no? Queste tre cose. Quindi, il testo statico, quello che non cambia, non cambia, quindi potrebbero anche tenerlo lì, fermo, immutabile. Il testo che cambia, cosa vuol dire che c'è un testo che cambia? Il server dove lo troverà un testo che cambia? Nel database. Dammi le prime tre news di oggi. E ovviamente quando oggi cambia, cambiano anche le tre news che arrivano. Le immagini dove le trova? Non trova le immagini nel database, al massimo troverà la posizione su disco dove le immagini sono salvate. Quindi l'immagine trova da su disco, direttamente, no? Quindi il server cosa farà? Chiederà al database l'informazione che deve chiedere, prenderà le immagini da disco, secondo quello che il database eventualmente gli fornisce, e compone la pagina HTML intera, e la manda in risposta al client. Qualunque esso sia il client, C1, C2, CN. Ok, ora siamo su pulito e clicchiamo il bottone di login. Cosa succede? Noi vediamo un'altra pagina, giusto? Schiacciamo su login. Ecco, prima di vedere quest'altra pagina, cosa succede? La stessa cosa di prima o qualcosa di diverso? Chi dice la stessa cosa di prima? Chi dice qualcosa di diverso? Entrambe le risposte sono giuste. Dipende dal sito. Allora, nel caso di tre poli accade la stessa cosa di prima. Quindi, a ogni link, a ogni clic, a ogni caricamento di una nuova pagina, viene richiesto al server la pagina HTML. Quindi, quello che ci sarà in questa risposta HTTP, nel body di questa risposta HTTP, sarà, tra le altre cose, una pagina HTML con eventuale CSS, con eventuale JavaScript, con eventuale musica, con eventuali immagini, eccetera. Tutto questo sarà nella risposta, perché il client deve prendere queste informazioni e visualizzarle in maniera coerente. Quindi, questo capita alla prima richiesta da www.polito.it, ma anche quando schiacciate su login, quando schiacciate su didattica, quando andate in un'altra pagina. E questa è l'architettura un'architettura web diciamo così tradizionale in cui ogni richiesta manda la pagina e tutte le informazioni che servono a quella pagina con i meccanismi di caching che ha il server HTTP, eccetera. Quindi, per cui, se la pagina non è modificata, io non dico al browser ce l'è già, per esempio. ok? Fin qui? Sì. Sì, in realtà ti manda risposte diverse, ti manda risposte diverse però collegate all'unica richiesta. Non sono risposte a caso collegate a richiesta a caso, quindi c'è un collegamento tra la richiesta e la risposta. Quindi in questo caso ci sono varie risposte ognuno col suo content type. Uno è content type HTML, uno sarà content type blob, l'altro sarà content type JavaScript, eccetera. Però, quello che volevo dire prima, quando ho detto c'è una richiesta e una risposta è che le risposte sono collegate alla richiesta singolarmente, poi è il server che in base alla quantità di informazioni da mandare manderà uno o più risposte in maniera proporzionata. Se devi mandare solo la pagina HTML sarà una. Dicevo, questa è l'architettura classica del web che per esempio il sito del pure tecnico supporta. Quindi ogni che si chiama server side rendering delle pagine HTML. Perché si chiama server side rendering delle pagine HTML? Perché? Perché sono generate, sono renderizzate dal server e quindi tutte le volte è il server che ha questo compito di creare le pagine e mandarle. e il client è tutto sommato stupido nel senso che si riceve la pagina HTML e la visualizza e ha finito il suo lavoro. Poi se c'è del JavaScript fa un po' di animazioni fa un po' di queste cose però tutto sommato è un client che riceve le cose e le visualizza. Dicevamo, questa è l'architettura classica. L'architettura che andremo a vedere noi nel corso non è questa classica ma è un'architettura in cui il server alla prima richiesta risponde con la pagina HTML col CSS col JavaScript eccetera ma alla seconda richiesta la terza la quarta la quinta all'interno di quell'applicazione fa cose diverse. Quindi non risponde più con la pagina ma risponde con con un JSON che con dei dati. Quindi non più con la pagina è questa e qua c'è un titolo qui c'è un'immagine qui c'è a destra c'è questo a sinistra c'è quest'altro qua c'è il colore blu eccetera ma risponde con ecco i dati nuovi che mi hai chiesto. Quindi se il server risponde con ecco i dati nuovi che mi hai chiesto chi fa il rendering a quel punto? Il client. Quindi in questo caso questa tipologia si chiama single page application perché sono applicazioni che ricevono una singola pagina HTML alla loro prima richiesta e poi tutte le pagine successive vengono gestite interamente dal client come rendering ma ovviamente gli mancano i dati e quindi quando ha bisogno dei dati li chiedono al server li chiede al server sempre utilizzando il protocollo HTTP questo meccanismo che vantaggio al netto della prima pagina che vantaggio ci dà? Cosa potrebbe essere questo client se noi ragioniamo in termini di dati che riceviamo non in termini di pagina HTML che riceviamo? Può essere qualcosa di diverso da un browser? Sì per esempio che cosa potrebbe essere? Un'applicazione mobile un'applicazione mobile perché a quel punto si separa al netto della prima pagina si separa HTML quindi come la pagina si vuole che appaia con i dati veri e propri e quindi se il client è un client che ha ricevuto questa pagina e fa le richieste successive per ricevere i dati e renderizzarle all'interno di un browser o il client è uno smartphone o un tablet che quindi ha una sua applicazione nativa che richiede allo stesso server le stesse informazioni il server non cambia quindi con questo con questa architettura si può anche separare il dati e la fornitura dei dati e chi fa il rendering di tali dati sempre utilizzando HTTP e sempre utilizzando un server un database e quant'altro React funziona nativamente in questo secondo modo quindi la prima pagina è una pagina HTML una single page application e poi tutte le altre richieste saranno prese da server e saranno dati dati in formato testuale quindi informazioni che poi sarà compito del client decidere se e come renderizzare quindi in questa seconda architettura spostiamo il carico di lavoro della renderizzazione dal server al client e dove gira il client un client web ognuno sul proprio pc quindi se il pc è se l'applicazione web è molto complicata molto pesante deve fare molte operazioni e il pc è molto vecchio questo ovviamente renderà l'applicazione web molto lenta perché il lavoro lo fa il browser e non lo fa più il server quindi noi come dicevo oggi costruiremo un server che funzioni in questo secondo modo quindi che non restituisce pagina html ma restituisce dati che poi la pagina html che poi l'applicazione web userà per renderizzarsi in maniera corretta e quindi non faremo oggi un server che restituisce pagina html css e quant'altro ma un server che restituisce dati in formato testuale esistono poi e questo chiude la panoramica sull'architettura web esistono poi approcci ibridi sempre più comuni che per esempio React supporta attraverso dei framework che noi non faremo nel corso perché sono aspetti più avanzati in cui si fa un mix tra i due approcci perché qual è il vantaggio di avere il server side rendering ve l'ho accennato prima quali sono uno dei vantaggi di avere il server side rendering che che esatto che se hai tante informazioni statiche eccetera la renderizzazione delle pagine la fa il server il server è equipaggiato per supportare moltiplici richieste quindi è una macchina dedicata a fare determinate cose e il client può essere molto leggero il vantaggio dell'altro approccio è che il server a questo punto deve solo fornire dati quindi non importa chi se il client li prende ci sono approcci che cercano di mettere insieme le due cose per cui alcune operazioni più complicate più lunghe più dispendiose vengono comunque fatte di renderizzazione nel server e altre operazioni invece rimangono nel client quindi si cerca di distribuire il carico tra il client e il server in queste architetture più ibride in queste applicazioni web più ibride in cui c'è un mix delle due cose sono però aspetti avanzati come vi dicevo che noi non tratteremo però giusto per dirvi che esistono quindi l'architettura classica è quella a ogni richiesta che ttp arriva una risposta con la pagina html al suo interno tutte le volte all'interno di un certo dominio quella un po' più moderna è non arriva alla pagina html ogni richiesta arrivano dei dati in qualche formato e tipicamente questo formato è json e poi ci sono architetture più avanzate più moderne ancora più moderne che mischiano le due cose per casi specifici voi sapete che cos'è un json? ok avete una vaga idea di che cosa sia un json? sì o no? un file di testo che mantiene dei dati come per esempio le configurazioni che si scrive in un certo modo ok però e si chiama json perché la js dipende da javascript è un sottinsieme di javascript ok domande su questo su questa 20 minuti su l'architettura web tutto chiaro? noi oggi quello che andremo a fare come dicevo è questo server che parlerà col database che è lo stesso dell'altra volta che restituirà dati in formato json dalla settimana tra due settimane perché martedì prossimo non c'è lezione inizieremo invece a lavorare sul client e poi a un certo punto metteremo tutto insieme quindi qual è dicevamo l'obiettivo creare questo server web tutto sommato semplice tutto sommato minimale all'interno di questo corso in quanto noi ci concentreremo soprattutto sulla parte client side quindi su queste single page application su react e il nostro server dovrà avere queste tre funzionalità beh sarà fatto in javascript questa non è davvero una funzionalità ma le tre funzionalità saranno che dovrà poter contenere contenuto statico se servisse immagini e dovrà poter supportare delle richieste dinamiche quelle che dicevamo prima per avere questi file questi json di informazione e supportare potersi agganciare correttamente a un database per contenere queste informazioni e uno dei server disponibili nel mondo javascript con node è appunto questo express che è un server web che risponde a queste tre esigenze ed è anche estendibile al bisogno con eventuali altre librerie quindi di base è un server web minimal in un certo senso ma si può espandere per supportare più funzionalità al bisogno HTTP abbiamo detto che siete esperti giusto? no più o meno allora facciamo solo un ripasso sui metodi qualche dubbio su questi metodi cos'è un metodo HTTP innanzitutto è un è un modo per specificare il tipo diciamo così della richiesta da inviare quindi metodi HTTP c'è qualcuno di questi metodi che non sapete che cosa sia quantomeno quelli grossi allora cosa è una quando usate una get l'abbiamo detto prima quando usate una get quando prendete i dati ogni volta che andate su un browser scrivete www.qualcosa quella è una get il browser nativamente esegue delle get quando scrivete qualcosa nella barra degli indirizzi quando usate una post quando volete inviare un form quindi il form di login che dicevamo prima userà una post per inviare le informazioni di login che informazioni di login si mandano mail e password per esempio ok la delete la delete è facile cosa farà mai la delete è così facile che nessuno risponde cosa farà mai una delete manda una richiesta per cancellare un qualcosa non è che cancella direttamente però manda una richiesta per esattamente come la get fa una richiesta per poi se tutto va bene succede e la put invece la put è simile alla post quindi potrebbe inserire qual è la differenza è scritta anche qui rimpiazza aggiorna i dati già esistenti quindi l'idea è la post è invio i dati per la prima volta e la put è i dati ci sono già voglio sostituire i dati e notate che qui si parla sempre di risorsa che cos'è una risorsa eccetera cos'è una risorsa in generale i dati che sono su server quindi mettiamoci in un caso pratico che useremo dopo le nostre domande risposte è una domanda con tutti i suoi campi che abbiamo detto la settimana scorsa due settimane fa eccetera una risorsa sì o no potrebbe essere una risorsa o no sì quindi notate questo perché ci servirà dopo una risorsa è per esempio la nostra domanda con tutti i suoi campi id testo autore data eccetera quindi quando voglio creare una risorsa cosa dovrò quando vorrò creare la risorsa domanda quali informazioni dovrò mandare tutte nessuna un pezzo tutte perché se no non sto creando la risorsa ne sto creando solo un pezzo della risorsa quindi sono in un certo senso in violazione a questo quando voglio aggiornare una risorsa devo fare un aggiornamento completo della risorsa o posso fare un aggiornamento parziale per il protocollo se uno vuole rispettare questa data che la risorsa ha tutte le informazioni l'aggiornamento deve avere tutte le informazioni anche se vado a cambiare la data anche se vado a cambiare solo un campo devo inviare l'intera risorsa per l'aggiornamento secondo il protocollo HTTP ok c'è un metodo più moderno che non so se avete visto mai che si chiama patch che invece è per fare l'aggiornamento parziale quindi HTTP prevede un aggiornamento parziale di una risorsa attraverso il metodo patch che è un metodo un po' più moderno non so se che non esisteva fino a un certo punto ok risposte la risposta è composta da un eventuale corpo per alcuni metodi e poi anche un codice di risposta giusto? si? si quali possono essere questi codici di risposta al netto di quello che è scritto in questa slide? si ma 200K è un codice di risposta 404 not found è un altro codice di risposta e c'è sempre un codice numerico e la sua descrizione testuale altri codici di risposta? 501 interno a server error che è un codice di risposta che capita altri? che vi vengono in mente? se vi vengono in mente? 503 forbidden forbidden che è un 400 qualcosa probabilmente 201 created quando si crea una risorsa si dovrebbe dare 201 non 200 quindi ci sono una serie di codici di risposta che sono categorizzati in vari modi quindi tutti i 500 e 5 qualcosa sono errori nel server quindi se l'errore è qualcosa che capita nel server bisognerebbe restituire un 500 qualcosa se invece è un errore che capita nel client è un 400 quindi un not found è un errore che viene nel client perché quella pagina richiesta dal client non esiste non è un problema del server semplicemente il server non ha quella pagina non è un suo errore magari a un certo punto nel futuro ce l'avrà ma al momento non c'è e quindi è l'indirizzo che potrebbe essere sbagliato o il link che potrebbe essere sbagliato e quindi è una famiglia 400 i 300 sono di redirect i 200 sono della famiglia successo quindi 200 ok è lo status code normale di ogni richiesta HTTP che va a buon fine 201 per esempio è created quando si crea una risorsa con una post bisognerebbe tornare 201 e eventualmente un body qui ci sono tutte cose content type sapete cos'è un content type? in teoria tutte queste cose dovrebbero essere più che note no? magari non fresche in memoria ma più che note e guardiamo un attimo però i body della richiesta e della risposta perché le andremo poi a utilizzare dovendo creare queste cose lasciamo perdere la head che non ci interessa la get non ha un corpo della richiesta quindi quando si fa una get non c'è un corpo ma la risposta della get obbligatoriamente prevede un corpo della risposta che ha senso perché io chiedo un'informazione e la risposta dovrà contenere la risorsa che ho chiesto la post ha obbligatoriamente un corpo della richiesta di nuovo se devo creare una risorsa devo mandare questa risorsa il corpo della risposta è facoltativo può esserci o può non esserci dipende stessa cosa per la put mando la risorsa ad aggiornare e la risposta il corpo della risposta può esserci o non esserci e la delete può avere secondo il protocollo un corpo della richiesta e un corpo della risposta tipicamente non quando si fa una delete si dice che cosa si vuole cancellare e non si invia l'oggetto la risorsa da cancellare si dice semplicemente cancella questo però può avere se si vuole un corpo questo è http come protocollo di nuovo da tenere in mente perché a un certo punto andremo a generare questi file di testo che manderanno le informazioni e quindi dovremo sapere quando possiamo mandare delle informazioni quando siamo obbligati a mandare delle informazioni la get quando possiamo non mandarle la post la put e la delete quindi con queste cose in testa express express come dicevo prima è un framework web in node esistono molteplici framework web in node qui ce ne sono elencati alcuni express è al momento uno dei più da qualche anno ormai uno dei più popolari quindi ampiamente utilizzato ed è anche abbastanza facile da utilizzare ovviamente node fornisce un modulo http al suo interno per attivare un server web però quel modulo http è molto di basso livello nel senso che dovete quasi andare a costruire il pacchetto http volta per volta che è un pochino eccessivo express astrae quel modulo http e fornisce funzionalità per non dover per esempio focalizzarsi su che cosa andare a mettere nel ladder se non si vuole cambiare ladder o altri elementi particolari di un server web express è una libreria esattamente come gli altri quindi si installa e poi una volta installata si può fare node il file che contiene in porta express e il server parte esattamente come abbiamo fatto per SQLite e djs express parte quando viene lanciato e sta in esecuzione o finché non c'è non va in crash il server o finché non viene interrotto da voi con ctrl c o command c dipende su che sistema operativo siete e se modificate un file dato che il programma è in esecuzione la modifica non viene vista e il programma il server rimane in esecuzione quindi se dovete modificare un file all'interno del server dovete stopparlo e far ripartire il server per incorporare la modifica express non ha nessun meccanismo per accorgersi di queste modifiche fatte al volo e far ripartire il server node però ha un modulo per farlo che si chiama nodemon che si può installare con npm install esattamente come le altre librerie e nodemon a differenza delle librerie è in realtà uno script con node che monitora cosa succede al programma che viene lanciato con nodemon e nel caso un file venga modificato si preoccupa di fermarlo e farlo ripartire quindi noi lanceremo spesso express non con node server punto javascript ma spesso con nodemon server punto javascript così che le modifiche che facciamo vengono immediatamente incorporate ed eseguite se installate nodemon il suggerimento è di mettere questa meno g quando installate nodemon che sta per globale quindi installa nodemon non solo all'interno del progetto come per come abbiamo fatto finora quindi nella cartella node modules del progetto ma lo installa a livello di sistema operativo quindi qualunque progetto node da quel punto in poi può utilizzarlo come se fosse un programma installato a livello del sistema operativo ok e poi appunto invece di lanciare i file con node nome del file li si lancia con nodemon nome del file e come è fatta un'applicazione express di base un'applicazione express di base ha tre aree la prima è quella che importa express in quanto è un modulo e crea un'applicazione quindi questa app sarà la nostra il nostro server la nostra applicazione server di express quindi inizializzazione la prima parte l'ultima parte che sta in fondo al file del server è l'attivazione del server quindi su questo oggetto app creato prima si utilizza un metodo che si chiama listen che prende due parametri una porta la porta su cui lanciare il server per esempio 3000 e una callback per gestire il caso in cui il server viene lanciato con successo quindi per esempio console.log il server è pronto in mezzo che cosa c'è? in mezzo ci sono configurate tutte le route tutti i percorsi che quel server deve fornire a cui deve fornire una risposta quando riceve una chiamata HTTP e le route come sono? sono sempre fatte partendo da app poi hanno un metodo che corrisponde in maniera identica al metodo HTTP quindi get post put delete eccetera poi il metodo ha due parametri obbligatori e alcuni facoltativi il primo è il percorso a cui la URL a cui quel metodo deve rispondere relativa rispetto al server e la seconda è una callback che prende due parametri il primo parametro è la richiesta quindi l'oggetto che rappresenta la richiesta HTTP che il server riceve e il secondo parametro è la risposta quindi un oggetto preimpostato in cui si può andare a inserire la risposta effettiva da mandare indietro al client che ha fatto richiesta a questo server e poi nel corpo di questa callback ci sono varie elaborazioni per inviare correttamente la risposta in questo caso è una risposta molto semplice che cosa fa secondo voi questa risposta qui non visualizza perché è un server invia invia all'award come testo quindi qui non c'è HTML qui non c'è nessuna sintassi particolare invia la stringa all'award a chiunque l'abbia richiesta e poi chiunque l'abbia richiesta dovrà essere in grado di operare su questa stringa quindi questa risposta sarà l'intero pacchetto HTTP di risposta con al suo interno nel body hello world una stringa di testo come vi dicevo ovviamente la parte iniziale la parte finale di questo file quindi questo activate questa creazione sono cose ben o male statiche che una volta create la prima volta non si toccano più quello che cambia sono le route al loro interno perché sono quelle che ci danno una risposta in base alla richiesta che andremo a fare quindi vi dicevo che questi metodi corrispondono ai metodi HTTP quindi app.get sarà il server pronto ad ascoltare una richiesta get che arriva post è la stessa cosa put è la stessa cosa delete se io volessi un metodo che ascolta tutte le richieste che intercetta e gestisce tutte le richieste c'è un metodo che si chiama all quindi appunto all su un certo path qualunque richiesta HTTP riceva con qualunque metodo cerca di gestirla e poi che cosa fa è lo sviluppatore che deve gestirla nella callback il path è il path del server il path a cui deve rispondere il server a quell'indirizzo quindi la route oppure index oppure qualcos'altro e la callback è quella che viene eseguita quando viene fatto il match tra la richiesta HTTP col metodo corrispondente e il path gli oggetti richiesta e risposta hanno alcune proprietà quelle più che ci interessano di più sono sicuramente body per la richiesta che è quello che prende il corpo della richiesta quando la richiesta ha un corpo ovviamente e method se abbiamo una route che gestisce più metodi attraverso request.method sappiamo se una richiesta è una get una post una put e quindi possiamo fare un if per capire quale richiesta stiamo gestendo se ci sono se ci sono dei parametri nella url e se c'è una query string nella richiesta allo stesso modo l'oggetto res alcuni in questo caso metodi non proprietà che ci sono interessanti per esempio c'è un res.json che manda una risposta in formato json partendo da un dizionario javascript da un oggetto javascript oppure abbiamo visto prima res.send che invia una risposta e poi che cosa sia questa risposta va specificato nel metodo res.end è un'altra cosa che useremo per dire abbiamo completato la risposta a questo punto non c'è più nient'altro da fare sulla risposta e c'è anche un redirect che serve per invece gestire una richiesta di redirect a un'altra pagina queste sono quelle che useremo più frequentemente res ha anche un metodo status che permette di definire esplicitamente uno stato http in cui vogliamo definire dare una risposta quindi per esempio res.status 200.send specifichiamo che lo stato http di quella risposta che stiamo dando dovrà essere obbligatoriamente 200 se lo mettiamo la risposta avrà status 200 in questo caso lo stesso quindi è utile quando vogliamo personalizzare lo stato diverso dal default per esempio se volessimo dare un 404 not found e in questo caso ci serve l'end perché status imposta lo stato ma non manda la richiesta non manda la risposta json prende come dicevo un oggetto lo trasforma in json e lo invia come send quindi res.json è come fosse res.send specificando nel send che quello che viene mandato è un oggetto di tipo json è uno shortcut rispetto a scrivere i send a mano con il json al suo interno come stringa e redirect eccetera un altro quindi di base express non è particolarmente complicato lo si configura e poi lo si inizializza si fa partire il server e poi in mezzo si specificano quali sono le route a cui il server dovrà essere in grado di rispondere e come bisognerà rispondere un concetto che esiste in express è la possibilità come vi dicevo prima di espandere quello che express può fare e questa espansione viene fatta tipicamente attraverso dei middleware express si richiama middleware i middleware sono funzioni che vengono chiamate a ogni o a certe richieste che il server riceve express ha dei middleware disponibili di default e dei middleware che si possono utilizzare esternamente un middleware si può creare se noi volessimo possiamo creare un middleware un middleware è una funzione che prende gli stessi parametri di prima request o response e anche un parametro next next è un parametro che dice prosegui al prossimo passo quindi se il prossimo passo è un altro middleware chiama l'altro middleware se il prossimo passo invece è la route allora esegui la callback della route quindi si possono specificare come funzioni possono esistere già creati da qualcun altro si possono poi utilizzare in due modi diversi si possono registrare a livello di intero server quindi con app.use la callback del middleware creata da noi o fornita da altri questo vuol dire che tutte le route da quel momento in poi potranno utilizzare quel middleware quindi è un middleware a disposizione di tutte le route se noi invece volessimo applicare un middleware solo da alcune route specifiche perché magari non serve che tutte o la maggior parte lo utilizzino possiamo indicarlo come secondo parametro nella metodo della route quindi il metodo della route ha un path obbligatorio una callback la callback deve essere obbligatoriamente l'ultimo parametro il path deve essere obbligatoriamente il primo parametro e in mezzo ci possono stare le callback le funzioni definite nel middleware una o più e tutte queste verranno eseguite in sequenza quindi quando arriverà una richiesta a questo metodo su questo path verrà eseguito il primo middleware che poi chiamerà una next che eseguirà potenzialmente il secondo middleware che poi chiamerà una next che se c'è un altro middleware chiamerà l'altro middleware finché la next non chiamerà la callback associata a quella route e quindi verrà eseguito il corpo della funzione che avete definito per gestire quella richiesta HTTP un middleware che useremo è per esempio il middleware JSON e lo useremo nella modalità app.use il middleware JSON ci dà la possibilità di gestire richieste e risposte in formato JSON e quindi ci converte automaticamente la richiesta in JSON che arriva come stringa perché in HTTP sarà una stringa e ce la convertirà automaticamente in un oggetto ci darà la possibilità di convertirla automaticamente in un oggetto JavaScript da poter utilizzare non so dove leggi insert e register oh non c'è o meglio insert e perché fammi cancellare tutti questi scarabocchi insert è per dire posso attivare il middleware solo su una specifica route quindi io sto inserendo il middleware solo su questa app.get solo su quella tutte le altre a meno che non vada a inserirla in ogni route non la vedono non lo utilizzano register invece dice che il middleware è messo a disposizione a tutte le route disponibili nel server quindi invece di inserirlo route per route lo metto a disposizione come se fosse una variabile globale che quindi tutti possono utilizzare senza specificarlo nella loro route quindi uno è un inserimento puntuale l'altro è un inserimento globale diciamo ma questo punto come si utilizza? come si chiama? oh si chiama all'interno in questo caso viene eseguito quando arriva la route in questo caso viene comunque sempre eseguito quando arriva la route il middleware viene sempre eseguito è come se l'avessi scritto qui in tutto il route praticamente sì per esempio un middleware che però non è un middleware una sì un middleware che si può utilizzare a livello globale in questo caso solo globale perché non ha senso inserire una singola route è quello per servire richieste statiche quindi immagini file pdf quindi richieste statiche che definisce in quale cartella all'interno del server ci sono le richieste statiche a quel punto ogni route che avrà bisogno di accedere a delle risorse statiche saprà che il file della ogni risposta che dovrà fornire una risposta a un oggetto statico saprà che il path su disco sarà quello specificato qui più qualunque cosa indicato nel nome del file e quindi Express di default andrà a cercare le oggetti statici all'interno di una cartella in questo caso public e se non vi piace public è possibile specificare un nome di un'altra cartella all'interno del server che più preferite sempre utilizzando quello stesso middleware richieste se la richiesta ha dei parametri in questo modo per esempio quindi punto di domanda qualcosa uguale qualcos'altro e commerciale è qualcosa uguale a qualcos'altro e commerciale qualcosa uguale a qualcos'altro quindi ha delle query all'interno della url queste query si possono recuperare senza l'utilizzo di nessun middleware direttamente dall'oggetto richiesta utilizzando la proprietà query la proprietà query vi restituisce tutto questo un oggetto con tutto questo e a sua volta estrae anche le chiavi diciamo quindi user e pass in questo caso all'interno di due altre proprietà all'interno di query quindi query punto user vi darà fc e query punto pass vi darà 123 quindi contenuto corrispondente a quella query quando invece vogliamo recuperare il corpo di una richiesta il corpo di una richiesta sarà nella proprietà body e se usiamo il middleware json sia su quella richiesta o in generale su ogni route con app punto use questa stringa viene convertita dal middleware json in un oggetto javascript e quindi si potrà a quel punto dire body punto user e body punto pass per accedere alle proprietà di quello specifico oggetto quindi rec punto body punto user ci restitirà fc e rec punto body punto pass ci restitirà 123 senza questo express punto json dato che questo è un json otterremo una stringa quindi in rec punto body ci sarà una stringa che è parentesi graffa aperta virgolette user chiuse virgolette due punti quant'altro e dovremo poi noi convertire la stringa in qualcos'altro o parsificarla in qualche modo allo stesso modo i path possono essere complicati e piacere possono essere semplici path a cui rispondere si può usare delle espressioni regolari sia normali sia attraverso l'oggetto javascript delle espressioni regolari che sempre però le espressioni regolari è oppure attraverso un array attraverso un array vuol dire che quel singolo path che quella singola root risponde per il metodo get in questo modo per tutti gli elementi per tutti i path che sono indicati all'interno dell'array quindi se c'è un metodo che deve fare le stesse quattro cose per molteplici path si possono mettere i path all'interno di un array quindi di parentesi quadra invece di avere quattro volte la stessa route copiata e incollata i path possono anche essere parametrici quindi possono avere parametri che cambiano per esempio user id e book id sono parametri perché sono parametri? perché io potrei fare una richiesta a users slash 1 slash book slash 5 e vorrei che quella richiesta venisse gestita nello stesso identico modo a una richiesta che faccio per users slash 5 slash books slash 3 perché il 3 e il 5 sono identificativi dell'utente del parametro e del libro e quindi sono appunto parametri che possono variare ma il codice rimane lo stesso quindi questi parametri si prendono sempre dall'oggetto richiesta questa volta dall'oggetto params e params.userid è il primo parametro params.bookid è il secondo parametro quindi se definite i parametri nella route nel path in questo modo due punti nome del parametro è la vostra scelta all'interno del codice potete poi scrivere params.nome del parametro infine penso express non ha un modo per fare logging quindi per mostrare un log di quello che sta succedendo nel server e però può essere utile soprattutto nelle fasi iniziali soprattutto quando si sviluppa quando si fa debug e quindi esiste un middleware che si può installare a parte che si chiama morgan che permette di appunto avere questo meccanismo di log all'interno del server e quindi vedere che arriva una richiesta HTTP a un certo tempo e quella è poi la risposta con quello status code eccetera quindi vedere su server cosa capita alle richieste e alle risposte che arrivano e che vengono generate tra gli altri middleware per esempio c'è un middleware che si chiama express validator di nuovo che si può installare a parte che serve per validare eventuali body che arrivano in una richiesta e quindi per esempio in questo caso se cosa fa questo middleware questo middleware prende il body e controlla se c'è un campo che si chiama username e se c'è un campo che si chiama username controlla che sia un'email quindi che sia formattata come un'email corretta e controlla che ci sia un campo password e se c'è la lunghezza deve essere minimo 5 caratteri e se questi controlli non passano vengono poi gestiti come errori all'interno del codice quindi invece di andare a prendere il body e dire c'è proprietà user sì è un'email avere un'espressione regolare che dica se quella è un'email valida e quant'altro c'è questo middleware che semplifica alcune di queste validazioni quando arriva un body nella richiesta quindi per validare il contenuto di una richiesta prima che venga per esempio salvata nel database in modo da non salvare cose che non sono appropriate o che potrebbero danneggiare rovinare il database ci sono poi se andate sul sito di express una serie abbastanza lunga di altri middleware e noi a un certo punto useremo course come middleware e passport come middleware sarà l'ultima cosa che faremo nel corso passport perché ci servirà per fare l'autenticazione quindi login e logout e sarà un middleware che fornirà già le best practice per fare quelle operazioni quindi come vedete estendibile express attraverso questi altri middleware che fanno varie altre operazioni ok domande fin qui? no? allora prendiamoci un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo in parte con l'API e in parte con un esercizio che mette in pratica l'API ed express quindi torniamo qui per le 10 l'API e in parte l'API Grazie a tutti